L'ASL mi ha comunicato due nuovi casi di positività al Covid-19. Nel contempo si sono verificate tre guarigioni, quindi allo stato attuale sono 14 casi positivi nella città di Agropoli, mentre sono 170 i guariti dall'inizio della seconda fase della pandemia. Lo ha comunicato il sindaco della città di Agropoli, Adamo Coppola, nel consueto report di avviso. Ci tengo a rassicurare, sottolinea il sindaco, in merito alle notizie circolate sui social relativamente ad un insegnante il cui figlio frequenta un istituto scolastico di Agropoli. Entrambi sono stati sottoposti a tampone e lo stesso è risultato negativo. In ogni caso la situazione è stata sempre sotto controllo e non ci sono mai stati rischi reali. Infine ci tengo a fare un in bocca al lupo ai ragazzi frequentanti le scuole secondarie di secondo grado che oggi hanno fatto rientro in classe. In accordo con il prefetto di Salerno abbiamo messo in campo una serie di provvedimenti tesi a garantire ingressi ed uscite in sicurezza grazie alla collaborazione dei volontari del locale gruppo di protezione civile, associazione nazionale carabinieri in pensione e guardie ambientali in ITA. Questi saranno collocati anche presso la stazione degli autobus per evitare assembramenti.